Come bollire perfettamente un uovo Bollire perfettamente un uovo ti aiuterà molto Non importa in quale modo lo preferisci Questo metodo soddisferà tutte le tue voglie Riempi una pentola di acqua Lasciala bollire e poi immergi le uova Ed abbia l'orologio Cuocile tra i 6 e i 12 minuti Adesso riempi una bacinella di ghiaccio Immergi le uova cotte Così farai terminare il processo di cottura Rompi il guscio e rimuovilo sotto il getto di acqua fredda Avrai ottenuto delle uova da 6 minuti con l'interno ancora lipido E da 12 minuti con l'interno solido Seguimi e scrivi nei commenti se vuoi sapere altre curiosità